Valgono circa 160 milioni di euro i saldi invernali nelle Marche, che inizieranno a partire da domani per 17 regioni su 20. La stima è fornita da Confcommercio Marche e Marche Centrali. L'acquisto medio a famiglia sarà di 280 euro e quello a persona di 121 per abbigliamento, calzature e accessori. Un quadro in linea con lo scorso anno, ma con l'opportunità di risvegliare i consumi e permettere ai consumatori di tornare a trovare vere occasioni nei negozi. Da domani inizieranno i saldi, hai già in mente cosa acquistare? Ma, non so, non so, sto pensando. Io sono una venditrice, quindi più che altro vorrei vendere. Inizieranno già gli sconti a partire da quanto? Da domani, che noi partiamo con il 20, il 30 e poi vediamo. Secondo la legge, gli sconti possono essere effettuati soltanto sui prodotti di carattere stagionale e quelli che possono subire un notevole ribassamento del prezzo se venduti durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, perché molto è legati alla moda. Ci sono inoltre altri obblighi che i commercianti sono tenuti a rispettare. Per esempio, si deve sempre indicare accanto al prodotto il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto, mentre è facoltativa l'indicazione del nuovo prezzo di vendita ottenuto con il ribasso. Le merci scontate devono essere esposte in reparti o zone diverse rispetto a quelle non in saldo per evitare che i clienti possano confondere la merce. Sono diversi invece i suggerimenti che i consumatori possono eseguire per evitare di incappare nelle truffe durante il periodo dei saldi. Ad avvertire i clienti sono la Guardia di Finanza e il Kodakons. Tra i consigli principali c'è quello del confronto del cartellino del prezzo precedente con quello ribassato. Inoltre, si invita a diffidare degli sconti superiori al 50%, che spesso nascondono merce non proprio nuova. Bisogna inoltre evitare di acquistare capi che non abbiano due etichette, quella di composizione e quella di manutenzione. Bisognerebbe provare sempre i vestiti e tenere sempre lo scontrino o la garanzia che vale comunque per due anni dall'acquisto. Infine, tra i trucchetti indicati dal Kodakons, c'è quello di segnarsi il prezzo di ciò che ci interessa nei giorni che precedono i saldi. Ancora devo guardare le vetrine e dopo vediamo se c'è il prezzo, tutto quanto, bisogna guardare perché ci sono delle fregature per i saldi. Abbiamo già acquistato tutto, torniamo da una vacanza, quindi abbiamo finito i soldi. Qualcosina troveremo adesso, a parte gli scherzi, si trova sempre con i saldi. Allora, noi abbiamo degli articoli che vanno scontati fino al 70% e partono da 2,99€, quindi c'è una vasta gamma di articoli. Noi abbiamo abbigliamento, accessori, scarpe e quindi c'è uno sconto molto ampio, addirittura fino al 70%.